Quello che noi chiamiamo passato. Che fine ha fatto il nostro passato? Commento. Quello che noi chiamiamo passato continua ad esistere come già esiste il futuro. Il veggente si mette in contatto con il piano astrale e legge gli eventi che saranno vissuti nel piano fisico. Ma sia il passato e sia il futuro appartengono all'eterno presente.